Un prodotto dalle caratteristiche organolettiche elevate che si scontra con le regole spietate di un mercato che non premia la qualità in cui tra frodi e miscele varie può finire in sostanza di tutto. Eppure l'olio extravergine d'oliva del territorio vale molto di più, tanto che il rischio per i piccoli olivicoltori è quello di essere costretti ad abbassare i prezzi e di non riuscire così a coprire i costi di raccolta, produzione e gestione dell'oliveto. Secondo Francesco Travaglini, presidente dell'associazione di produttori Molis Extra, il dato riguarda il timore e la considerazione che il settore non sia più remunerativo. Questo aspetto, ha spiegato, può favorire in alcuni casi anche l'abbandono degli oliveti, arrecando così un danno gravissimo all'economia locale. Tutto sta nel senso della qualità e nel trovare i canali migliori per distribuire un prodotto squisito al palato e rinomato anche fuori dai confini regionali. Un olio che continua a scorrere nei frantoi dislocati nei centri del basso Molise, in cui da giorni si assiste al viavai di casse e cariche di olive. I dati medi della raccolta 2013 evidenziano un extravergine di ottima qualità e una resa più bassa rispetto allo scorso anno. Un elemento, ha spiegato Maurizio Corbo dell'ufficio Olivicoltura dell'Arsiam, legato alle condizioni climatiche, cioè alle piogge che hanno gonfiato il frutto, con una resa che va dai 10 ai 14 litri per quintale di olive molite. Scende anche il prezzo delle olive, a seconda della zona la forbice oscilla dai 28 ai 34 euro al quintale, in base alla varietà del raccolto e di chi le compra. Variabile il prezzo al dettaglio, a seconda delle scelte dei frantoiani, delle cooperative e dei piccoli produttori. Un litro di olio extravergine convenzionale può variare dai 4,50 euro ai 6,50 euro. Discorso diverso e prezzi più alti per i prodotti specifici o certificati con il marchio DOP o il biologico, resta lo spettro del mercato all'ingrosso, dove se i prezzi sono ancora più bassi, aumenta il rischio di trovare oli di bassa qualità. Secondo il tecnico dell'Arsiam, bisogna insistere anche su nuovi canali commerciali, ad esempio vendendo l'olio come un prodotto nutraceutico, cioè nelle farmacie, valorizzando anche la funzione benefica sulla salute di un prodotto alla base della dieta mediterranea.